Ciao Matteo, che sentimento prevale in questo momento? Quante emozioni avete vissuto oggi? Tantissime, è stata una giornata fantastica. Da quando siamo scesi in campo, vedere tutte quelle persone allo stadio che ci hanno sempre sostenuto in questo anno, poi vederle arrivare fino qui in Duomo è stato qualcosa di emozionante, veramente, che ci rende veramente orgogliosi. Per te il secondo Scudetto con l'Inter e quest'anno, come tre anni fa, hai segnato dei gol pesanti nella cavalcata Scudetto? Sì, non è la mia specialità, però ogni tanto lo zampino lo metto. Sono contento di aver contribuito a raggiungere questo obiettivo fantastico e di aver dato una mano alla squadra a portare a casa il tricolore. Che allenatore è stato Simone Inzaghi in questa stagione? Che cosa vi ha trasmesso per farvi rimanere sempre così lucidi fino alla fine? Ci ha trasmesso le sue idee e la sua tranquillità anche nei momenti dove magari c'era un po' più di pressione e oltre ad essere un grande allenatore l'ha dimostrato in questi anni, non solo quest'anno, è anche una grande persona a cui vogliamo bene ed è giusto che noi insieme a lui ci togliamo questo tipo di soddisfazioni. Delle Inter che hai vissuto te, si può dire che questa sia la più performante, la più matura? Sì, forse sì, però è frutto di un percorso lungo, fatto di momenti positivi e alcuni negativi che però ci hanno dato la consapevolezza di essere forti e lo abbiamo dimostrato sul campo. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao Stefan, quante emozioni, quanto calore da parte dei tifosi avete ricevuto questa sera? Tantissime, non riesco a togliere il sorriso dal viso, quindi sono senza parole, ha superato tutte le aspettative. Per te il secondo scudetto con la maglia nerazzurra, hai vissuto tutti questi anni con questa maglia, hai visto arrivare giocatori nuovi, questo scudetto che cosa rappresenta? Penso tantissimo, prima di tutto è uno scudetto importantissimo, è la seconda stella, tutti i tifosi, noi l'abbiamo voluto tanto, l'aspettato e siamo felicissimi. Io primo scudetto, cioè non abbiamo potuto festeggiare in questo modo, quindi sono contentissimo di poter farlo come oggi. Che cosa vi siete detti in questi giorni tra di voi? Avete realizzato quello che avete fatto? Non lo so, penso che devo ancora arrivare, però quando vedi tutto questo, cioè siamo stati sette ore sul pullman, gente ovunque, la passione dei tifosi, è un'emozione incredibile. Ci racconti se c'è stato un momento in cui avete realizzato di poter essere campioni d'Italia, in cui avete capito che ce la potevate fare? Penso che l'abbiamo creduto dall'inizio, lo volevamo, lo volevamo tanto, eravamo consapevoli della nostra forza e l'abbiamo dimostrato questa stagione e ce lo siamo meritati. Inzaghi, cosa vi ha trasmesso in questa stagione? Ha cercato magari in qualche momento di contenere il vostro entusiasmo quando l'Inter continuava a dominare questo campionato? Sì, il mister è stato bravissimo, è cresciuto tantissimo, è anche una buonissima persona, c'è una bellissima intesa tra staff e giocatori e anche questo è uno dei segreti per questo successo. Grazie mille. Prego.